Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Continua questo corso base introduttivo ad Adobe After Effects Anche se è terminata la sezione dedicata ai concetti introduttivi e ai concetti base con questa serie di video lezioni ci stiamo un po' preparando a quello che sarà il modulo avanzato In particolare in questi tutorial, in queste lezioni stiamo parlando dell'audio in After Effects e vado a dire come sfruttare un file audio per animare qualcosa in After Effects Nella scorsa lezione abbiamo visto come sfruttare le informazioni sul volume di una traccia per animare un V-meter Abbiamo fatto questo Molto semplice, niente di particolarmente entusiasmante ma abbiamo visto come sia possibile trasformare le informazioni sulla pressione sonora di un file audio in fotogrammi chiave che ci permettessero poi di animare una forma geometrica come è accaduto qui in questo caso Oggi andiamo un po' avanti e vediamo come realizzare quello che viene chiamato spettro audio Cos'è uno spettro audio? Beh, più o meno questo È un po' come una corda di chitarra pizzicata che si muove ondeggia a seconda insomma della forza con cui abbiamo dato il pizzico Niente di particolarmente complicato rispetto agli altri video perlomeno questa volta non utilizzeremo espressioni, codice Oggi saremo semplici, semplici, semplici e utilizzeremo un effetto chiamato spettro audio Come si applica e come si usa questo effetto? Beh, intanto create una nuova composizione e inserite dentro la traccia audio che volete animare, di cui volete animare lo spettro Due volte il tasto L, ricordo, per visualizzare lo spettro stesso Questa è solo una rappresentazione per capire dove inizia il nostro file audio Bene, creiamo subito poi un nuovo livello a tinta unita Date il colore che preferite, date il nome che preferite Il spettro va più che bene, il colore bianco va benissimo E applicateci sopra l'effetto genera, nella cartella genera, spettro audio Oh, bene, beh, insomma, voi direte, tanti puntini allineati Che cos'è questa roba? Beh, intanto specifichiamo qual è la sorgente audio che vogliamo utilizzare per animare il nostro spettro Quindi mouseis.wav E mandiamo in play, vediamo cosa succede Qualcosa si muove Bene, specifichiamo le frequenze Noi vogliamo che siano rappresentate le frequenze Intorno ai 20 Hz Qui sulla sinistra E sulla destra vogliamo rappresentare le frequenze Un po' più alte, ma non troppo alte Via Aumentiamo un pochettino anche L'altezza massima Ma andiamo in play, vediamo cosa succede adesso Ah, eh Qualcosa è cambiato Ora, è inutile che io sia qui per 20 minuti A farvi vedere come funziona questo effetto E come sia possibile in qualche modo personalizzarlo Customizzarlo, modificando questi parametri Come sempre, io il consiglio che do è quello di Giocare, 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 giocare E raggiungere un po' un equilibrio Cercate di capire voi Cosa vi interessa E come realizzarlo Giocate con questi parametri E vedrete che tutto sommato Poi non è così complicato animare E scegliere le impostazioni Più giuste a quello che è di vostro E di vostro interesse Quello che però voglio mostrarvi Questo sì È un'altra funzione molto interessante Che ci permette di Agganciare Questo spettro audio Ad una maschera Che cosa vuol dire? Precisamente Bene, nascondo per un secondo questo livello E creo un testo Guardate, eh Una semplice lettera La lettera E Ingrandiamola un pochettino Diamo un corpo un po' più cicciottello A questa lettera Ok Facciamo che vada super bene Andiamo nel Nella tab Allinea Che si trova qui Eccolo qui Centriamolo E trasformiamo questa lettera In una maschera Tasto destro sulla lettera Crea Crea maschera dal testo Viene creato un nuovo livello Ma noi non siamo interessati Tanto a questo livello Siamo interessati A quello che c'è al suo interno Dentro c'è una nuova maschera Ed è la maschera della lettera E CTRL C Per copiarla Butto via questo livello Butto via anche la lettera Nel livello spettro Che ricordo È il livello che ospita Il nostro effetto Vado con il CTRL V Il più classico Dei classici Come potete vedere La maschera Della lettera E È stata copiata Dentro A questo livello Due volte il tasto M Per visualizzare Tutti i parametri della maschera Cosa ci facciamo Con questa maschera Semplice Sulla voce tracciato Dell'effetto audio Spettro audio Che abbiamo prima applicato Scelgo il nome della maschera Guardate cosa accade Ovviamente Riaccendiamo la visibilità Dell'effetto Modifichiamo un po' L'altezza massima Perché l'altezza massima Data prima Era un po' tanta Ecco qua Disabilitiamo La visualizzazione Delle maschere Ma andiamo in play Potete giocare come preferite Io qui ho messo Digitale Potrei mettere linee analogiche Vedete che viene tutto Un pochettino più Reso Compatto Potrei giocare con L'altezza massima Per evitare che I movimenti Siano troppo esagerati Potrei Giocare con Le bande di frequenza Per aumentare La distanza Tra le varie onde O anche mettere al minimo Probabilmente Potrebbe anche essere interessante Giocate Giocate Come dicevo prima Non c'è una regola L'unica regola O meglio L'unico limite È quello che siete voi stessi A porvi Ok Vediamo cosa accade così Mando in play Giocate 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 Il mio Vuole solo essere Un Semplice Suggerimento Perché Voi Possiate Sperimentare E vedere Cosa succede Bene Ripeto Questo l'abbiamo fatto Con una maschera Ma se io Voglio Volessi per esempio Animare Questa onda Lungo un tracciato Bene Bene Nessun problema Seleziono sempre Il livello che ho creato prima Con la penna Disegno Un qualunque Tracciato Sia di mio interesse E a questo punto Dentro l'effetto Associo La maschera Che ho appena creato Ed ecco qui Abbiamo animato O meglio Abbiamo agganciato La nostra forma sonora Onda sonora Direttamente All All Alla maschera Che abbiamo appena creato Ok 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 E' tutto per questo tutorial Nell'ultima parte Di questa sezione Di questo gruppo di Video dedicati all'audio In After Effects Vedremo una cosa un po' curiosa Ovvero Vedremo come sfruttare Le informazioni Sulla frequenza Quindi frequenze basse Medie e alte Per animare qualcosa In After Effects Quello che realizzeremo Nel prossimo video Sarà qualcosa simile a questo Frequenze basse Si accende la luce rossa Frequenze gialle Si accende la luce gialla Frequenze altissime Si accende la luce verde A seconda del tipo di frequenza Che viene interessata Dal file audio Verrà acceso Un parametro Un led Piuttosto che un altro Non ha uno scopo particolare Questo tutorial Solo per mostrarvi Ancora una volta Come sia possibile Utilizzare In questo caso Torneremo a parlare Sì delle espressioni Ma comunque Come sia possibile Utilizzare le informazioni Presente in una traccia audio Per animare oggetti Parametri Colori In After Effects www.fabioambrosi.it Sito internet Se vi è piaciuto Questo tutorial Seguite anche gli altri Qui sul mio canale youtube Iscrivetevi a questo canale Condividete questi video Con i vostri amici Cercatemi su facebook La pagina da cliccare Come sempre È Fabio Ambrosi Cliccate Mettete un like Teniamoci in contatto Al prossimo video tutorial Ciao Ciao